Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema, sono Giulio e continuo il viaggio nel franchise Planet of the Apes o in italiano Il pianeta delle scime con questo bel cofanetto con il quinto film della saga originale 2670, ultimo atto, diretto da Jack Lee Thompson che era il regista anche del capitolo precedente, 1999, Conquista della Terra. Il titolo, come è successo nel film precedente, è un po' fuorviante, nel senso che i fatti narrati in questo film in realtà sono collegati a quelli precedenti, si va avanti di una decina d'anni, ma il fatto di aver messo una data ha comunque un senso perché il film ha una struttura circolare, apre con un'introduzione da parte di un personaggio che si chiama il legislatore, che poi capiamo durante il film chi è e conclude sempre con il legislatore che fa un discorso conclusivo. Ma il cuore del film in realtà è collegato al film precedente perché succedono una decina d'anni dopo, a inizio anni 2000. Cosa è successo? Cesare ha costruito una comunità fondamentalmente in cui scimmie e uomini riescono a vivere in pace, insieme, in armonia. Assieme a Cesare c'è il personaggio di MacDonald che avevamo visto nel capitolo precedente ed era l'unico che aveva dato fiducia a Cesare ed era anche quello che l'aveva salvato dall'attacco, dall'agonia degli esseri umani e, come abbiamo visto nel capitolo precedente, Cesare poi aveva dato vita a una rivoluzione che ci porta ai fatti narrati nel quinto capitolo. Questa comunità sembra vivere bene, felice, in pace, in tranquillità, fanno qualunque tipo di attività che una comunità deve fare per il proprio sostentamento. Ma Cesare ha un ultimo desiderio, lui vuole conoscere il suo passato. Allora cosa decide di fare? Decide di esplorare la città distrutta, la città distrutta che si trovava a un bel po' di distanza da dove lui ha costruito questa comunità per capire chi erano i suoi genitori. I suoi genitori, che sappiamo, sono morti nel terzo capitolo, Cornelius e Zira, sono morti nel quel drammatico e bellissimo finale del terzo capitolo. Allora lui va, assieme anche a una guida che si chiama Virgilio, è un nome e tutto la dice lunga sul suo ruolo, vanno in questa città distrutta per ritrovare dei vecchi filmati dei genitori di Cesare. E qua scoprono che in realtà c'è un'altra comunità di sopravvissuti, esseri umani che cercano di vivere sottoterra come dei topi e sopravvivere, nonostante sia stati sottoposti a delle radiazioni potentissime. Nel momento in cui queste due parti si incontrano, scatta subito un conflitto. Cesare, Virgilio e Madonna riescono a scappare, ma si portano dietro questi nemici, i quali, una volta scoperta la comunità, cercano di prendere possesso e quindi spodestare le scimmie e tornare alla luce. Questa è la trama del film, ma oltre a questo Cesare ha degli altri difficoltà, difficoltà che non vengono più dall'esterno ma dall'interno, perché all'interno della comunità delle scimmie in realtà c'è qualcuno che non approva i modi pacifici e collaborativi tra uomini e scimmie, ma preferisce il pugno duro. Nella fattispecie nel personaggio di Aldus, che è un guerriero, lui cosa fa? Lui cerca di fare un colpo di stato e spodestare Cesare stesso, ma non sarà l'unica cosa grave che farà, perché, non voglio scendere nei dettagli, lui non rispetterà la regola sacra della comunità delle scimmie, ovvero scimmia non uccide scimmia. Chi ucciderà non lo dico, perché se non avete visto il film non vi voglio svelare una delle cose interessanti del film, e quindi Cesare oltre a dover badare ai problemi provenienti dall'esterno, deve badare a un problema organizzativo interno che sarà difficile da gestire. Il film prosegue in questo senso verso un ovvio scontro finale tra scimmie e ovviamente esseri umani. Chi vincerà non ve lo dico, ma una volta terminato questo scontro, si va avanti nel tempo e troviamo ancora il legislatore che legge la pergamena su cui si basa la comunità delle scimmie e parla anche della figura di Cesare. E da qua prende e parte quello che noi in realtà abbiamo visto nei primi capitoli. Per quanto riguarda il film è tutto, devo dire che si vedono certi limiti sia a livello di produzione, sia a livello di organizzazione, perché la trama non è tra le migliori, anche la sceneggiatura non è tra le migliori che abbiamo visto di questo ciclo di cinque film. Si sente, si percepisce che ormai le idee del franchise e dei personaggi hanno dato tutto e quindi si è arrivato a un finale. Ma comunque riesce a mantenere un suo stile, sia da un punto di vista registrico, anche se Jack Lee Thompson secondo me è stato molto più bravo nel capitolo precedente a raccontare bene la rivoluzione e il pensiero di Cesare piuttosto che qua. E tra l'altro c'è da dire che qua, a differenza dei capitoli precedenti, il tono è un po' più leggero e anche un po' più pacifico, mi viene da dire, anche perché sono anni particolari per quanto riguarda gli Stati Uniti, cioè siamo nel 73, ma nei 10-15 anni prima della storia americana la violenza, la guerra in Vietnam, i supprusi razziali hanno segnato molto la storia americana e quindi c'era bisogno di qualcosa di diverso, di qualcosa di più rassicurante. Anche il finale, anche se non ve l'ho svelato, è decisamente più rassicurante rispetto a quello che abbiamo visto nei capitoli precedenti. Il personaggio di Cesare è sempre un personaggio veramente forte, potente, carismatico e si vede in lui, che poi è una caratteristica che verrà ripresa benissimo nella trilogia Reboot, si capisce benissimo il dualismo in cui vive il personaggio stesso di Cesare, cioè da una parte c'è la natura della scimmia che vuole mantenere una certa pace, una certa serenità e dall'altra c'è la natura dell'uomo che, come c'è stato detto in tutti i film precedenti, soprattutto nei primi due, l'uomo ha la caratteristica, benché dotato più di intelletto, ha la caratteristica di distruggere i propri simili. E in Cesare questo dualismo si sente molto bene e Rudy McDowell, nonostante la maschera, il costume, tutto quanto, secondo me ha regalato anche in questo film un'ottima interpretazione, come aveva fatto nei capitoli precedenti e come aveva fatto anche con il personaggio di Cornelius nel primo e terzo capitolo. Per quanto riguarda i contenuti speciali, devo dire che o meno in questo Blu-ray ce ne sono un bel po' di più rispetto al quarto e terzo capitolo, c'è ovviamente, come negli extra precedenti, la possibilità di vedere il film solo con l'audio della corona sonora, c'è una clip di 16 minuti che si chiama End of the Epic che fondamentalmente racconta come è nata la sceneggiatura che doveva essere scritta in origine da Paul Dan, che era lo stesso che aveva scritto le sceneggiature precedenti, ma poi in corso è stato dato il compito a una coppia di coniugi Corrington che hanno cambiato un po' anche soprattutto perché gli studios della Fox volevano cambiare un po' la linea del film e hanno spinto verso una linea più pacifista, più rassicurante e appunto in questa clip di 16 minuti si racconta questo passaggio, si racconta anche qualcosa dell'evoluzione dei personaggi, soprattutto quello di Cesare che è il fulcro del film. Poi c'è una clip corposa di 45 minuti con tutte le scene estese perché in realtà il film ha tantissime scene estese per cui dura così tanto perché negli extra viene messa proprio tutta la sequenza e in alcuni punti si vedono delle scene che nel film non si erano viste. Non ci sono scene particolarmente significative quindi ci sta che sia stato fatto questo taglio. Poi abbiamo ovviamente il trailer uscito nel 73, la consuetta rubrica anzi giornale News Apes con tutte le curiosità del pianeta delle scimmie anzi di quello che racconta anno 2670 ultimo atto e un po' di curiosità anche sulla produzione c'è il press book originale con tutte anche qua informazioni che venivano date ai giornalisti sul film e poi si conclude con una bella e solita fotogallery sui materiali sui poster su foto dietro dietro le quinte nel backstage e di promozione. Per questa recensione è tutto continuerò comunque il viaggio appunto di questo cofanetto il pianeta delle scimmie con il prossimo capo chiusa questa saga originale classica che devo essere sincero mi ha fatto veramente molto piacere riscoprirla anche perché credo che con qualche difetto secondo me soprattutto sul secondo e in parte su questo sono comunque dei cinque film molto interessanti da riscoprire e da vedere come un tempo si faceva la fantascienza poi il fulcro di quei film era proprio il discorso delle relazioni sociali tra scimmie e uomini e secondo me sono state sviluppate veramente bene il prossimo appuntamento sarà con il primo remake del 2001 diretto da Tim Burton e vi racconterò un po' come come è stato e ovviamente racconterò anche i contenuti extra presenti nel Blu-ray per questa recensione è tutto vi invito a iscrivervi al canale YouTube di CineTviland ciao e alla prossima grazie a tutti